La nuova e unica sede dell'ospedale delle bambole di Napoli, del centro storico, si trasferisce negli spazi restaurati delle scuderie di Palazzo Marigliano in via San Biagio dei Librai. Una struttura di 180 metri quadri che accoglierà i giocattoli che dovranno essere curati, tra le novità gli originali reparti specialistici di ortopedia, oculistica, meccanica e riabilitazione, oltre alla sartoria atelier, il trucco e il parrucco, ambulatorio veterinario per i peluche e laboratori didattici per bambini. Fu Luigi Grassi, alla fine dell'Ottocento, a mettere su un vero e proprio pronto soccorso delle bambole. Scenografo di teatri di corte e dei teatrini dei pupi, ebbe l'idea per caso, dopo che una mamma disperata entrò nella sua bottega per farsi aggiustare una bambola. Da lì a poco la voce si sparse e molte mamme si recarono al suo negozio, per rimettere a nuovo le bambole delle figlie. Oggi la figlia, Tiziana Grassi, ha raccolto l'eredità dell'eclettico padre. Siamo dei semplici artigiani, però amiamo talmente tanto il nostro lavoro perché, sai, insomma, aggiustare dei giocattoli è una cosa speciale, perché tutte le persone che vengono qui ad aggiustare un loro ricordo, un loro sogno, per noi è un momento speciale. E il mio papà lo diceva, perché diceva tizi, io non lo so, forse non diventerai mai veramente ricca, ma non ci importa, ma tu sarai ricca dentro.